Signore e signori, attenzione! Ora mi presento il leone più feroce del mondo! Ecco a voi, graisse! Pensate che con le sue pausi spaventose si è dimorato in un sol bucone la mucca bassa! Zitto con gli italatesi e la parrucca di Moiner Bell! Appiculare buccia! Bestiapcia! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!